buongiorno ragazzi io capisco tutto e rispetto tutti soprattutto io rispetto il clan dei pechinesi che a sostegno eh di questo personaggio e a detta di qualcuno sarebbe ancora il presidente dell'Inter per me non lo è più da un anno anzi non l'è mai stato lo rispetto il clan di Pechino fanno parte del regime sono gestiti dal regime a qualcuno hanno promesso anche una partita in un nello skybox ecco perché si è venduto ma non voglio entrare in cose personali ma appena il clan dei pechinesi qui su YouTube parlo di YouTube soprattutto eh perché ce ne sono diversi appena il clan dei pechinesi vede una notizia positiva nei confronti del loro capo cosa succede? Succede che li vedi euforici ci sguazzano e poi leggono fake news e ti riportano la fake news perché no non hanno le competenze per esaminare quello che leggono quindi loro come un cagnolino da riporto che tu che gli tiri sì l'ossino loro loro riportano l'ossino su YouTube al clan di Pechino che ora hanno fatto stanno facendo risplendere la stella eh della sostenibilità della sostenibilità economica che è tutto migliorato e che siamo a posto ricordo che stamattina proprio un portale web molto vicino al al signor Zhang dice che minimo chiuderà il bilancio in perdita di cinquanta milioni quest'anno quindi questo lo dico a tutti quelli che dicono il sistemato è tutto a poster non è tutto a poster nulla perché ci sono dentro delle plusvalenze enormi e la plusvalenza non è un dato di stabilità economica la plusvalenza oggi c'è domani non c'è quindi non è un non è un segnale di sostenibilità e di uniformità capito la plusvalenza è una cosa che così non tutti gli anni puoi avere quelle cifre di plusvalenza non è un segnale di continuità del risanamento state parlando del nulla il signor Zhang ha finito anche i soldi del prestito di optri gli sono rimasti diciotto milioni abbiamo fatto i conti perché optri ha vincolato dei soldi sul conto di grant tower proprio per cautelarsi per gli interessi ma veniamo al sole ventiquattro ore stamattina veniamo al sole ventiquattro ore perché ragazzi non per chi per il novanta per cento dei tifosi dell'inter che vuole fuori ormai il lanciatore di coriandoli che sarebbe stime zanghi ha detto in maniera scherzosa in toscano o lo scaricatore di pdf chiamatelo come vi pare è una notizia positivissima quella del sole ventiquattro ore ragazzi ma ma di cosa state ragionando sole ventiquattro ore un giornale che io stimo tantissimo tra cui c'è anche carlo festa che come gli esonerati dissero che secondo me disse festa optri concede il prestito perché c'ha già il compratore comunque veniamo all'attualità sole ventiquattro ore optri gli apre a zang gli apre la porta optri a zang più tempo più tempo ma solo ed esclusivamente per concludere la sessione quindi cosa vuol dire che c'è una avete detto che c'è una sessione in atto ma va è un odio io ora non si legge ma non si legge ma il rifinanziamento in questo modo concede più tempo affinché le trattative con il nuovo affinché le trattative con il nuovo praticamente ci sarebbe questa ipotetica proroga affinché le trattative con il nuovo azionista si finalizzino ma zang da quello che hanno detto poi da quello che hanno aggiunto nell'articolo che non sto a leggerlo ragazzi non sono qui a leggere il giornale ce l'ho gli argomenti possa piacere poi o no ma zang deve fare una dichiarazione portare delle prove e dichiarare che ha il compratore altrimenti optri gli fa maramao quindi questo sta a significare secondo quello che ha scritto il sole 24 ore che è in corso un passaggio di proprietà che si deve finalizzare gestito attraverso optri e si daranno sicuramente un termine massimo io spero che finisca tutto domani perché non se ne può più anche perché lì tra livello di immagine come abbiamo detto tantissime volte riesce distrutto e parlano di una proroga ma solo ed esclusivamente per finalizzare il cambio di proprietà la cessione finalmente stamattina il sole 24 ore parla ufficialmente di cessione dell'inter il clan di pechino l'ha girato a modo loro stanno parlando che rifinanzia zang zang ha finito anche i soldi del prestito mi dispiace c'è una comunicazione per il clan dei pechinesi zang ha finito anche i soldi del prestito gli sono rimasti 18 milioni cari ragazzi l'eventuale proroga che secondo me non ci sarà può essere anche di un anno la proroga ma puoi vendere anche dopo due mesi perché ottino non aspetta un altro anno perché zang con la politica a zero non potrebbe far altro che abbassare il livello che la stima del club perché se non investi muori e lo hai visto anche i champions quest'anno non sei stato in grado di dare all'allenatore una terza punta per una squadra che gioca con due punte che ha tre competizioni e si è schizzato fuori dalla champions league perché uno dei motivi principali per cui l'interno è più i champions league è un problema economico come lo scudetto al milan regalato perché te prendi gosens con le stampelle invece di prendere un attaccante perché prendi gosens con le stampelle perché non lo paghi e cominci a pagarlo dopo 40 dopo 40 mesi sono questi i movimenti di quello che gestiva che gestiva da pechino perché nella sessione lui non c'è nel mezzo non parlano più con lui questo è quanto tra l'altro due dati scritti da fm che ve le riporta ragazzi volentieri perché questo è l'unico canale riesce a fare chiarezza su queste cose che si inventano i giornali eh il clan dei pechinesi e quant'altro volevo leggere stamattina cosa vi ha scritto e sono dei numeri certificati e quindi lo devo riportare perché qui si rischia di sbagliare Zang deve metterci almeno altri 90 milioni per per ricostruire il capitale sociale e le riserve legali e statutarie dice il buon Effenberg il problema di Zang è che dei 128 milioni dei crediti che Grand Tower aveva nei confronti di FC Inter ne ha già utilizzati 108 motivo per cui gli sono rimasti solo 20 milioni da convertire in capitale abbiamo spiegato il debito convertito e via discorrendo il resto lo deve mettere lui stesso come azionista di maggioranza perché anche il residuo del prestito che immette serve per necessità a livello di eh spese vive di liquidità del club comunque il fatto dice Effenberg di convertire i redditi in patrimonio netto di FC Inter è perché non può fare aumenti di capitale per non per non diluire Lion Rock le vuote di Lion Rock ma noi questo l'abbiamo detto quindi o per un motivo o per un altro questo è un presidente non può più fare conferimenti di capitale non li fa più da cinque anni la situazione economica rimane grave gravissima eh è un gigante che perde sangue che si sta accasciando le previsioni di bilancio nonostante le plusvalenze mastodonti che chiuderemo a meno cinquanta quest'anno e lo scrive chi è vicino a Zang questa mattina quindi ragazzi ci rimane o o o trighi da più tempo ma mi devi dichiarare che hai un compratore altrimenti da quello che ha scritto solo i ventiquattro ore o trighi ha detto o lo porti te il compratore altrimenti ce l'abbiamo noi il compratore non è un problema e ricordatevi una cosa l'Inter non è il brutto l'annatroccolo che non vuole nessuno perché l'Inter è un top club te se compri un top club in Premier League l'abbiamo detto più volte è vero che hanno lo stadio di proprietà ma lo paghi sei miliardi dell'Inter la paghi un miliardo un miliardo è qualcosa e poi lo stadio a quanto pare con una ristrutturazione soprattutto se in Milan va a giocare a San Donato lo stadio con le concessioni del comune hanno avanti a nove anni diventa tuo ciao Inter ciao ciao Grazie a tutti.